Torniamo a rendere grazie ai grandi antichi perché finalmente J-Pop ha pubblicato in Italia una nuova trasposizione dei racconti di H.P. Lovecraft come sempre realizzata dal fumettista giapponese Goutanabe e questa volta è il turno dell'orrore di Dunwich. Salve a tutti bentornati su Polvere e Fumetti e bentornati in un nuovo video dove parliamo di fumetti molto 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 interessanti perché se bazzicate da un po' di tempo questi lì sapete bene che non riesco a essere mai indifferente quando esce una nuova trasposizione basata sui racconti di H.P. Lovecraft in particolare se poi questa trasposizione è firmata proprio da Goutanabe questo fumettista giapponese che negli ultimi anni sembra aver proprio un po' consacrato quasi tutto il suo lavoro proprio in forza invece ripeto del verbo del bardo di Providence infatti J-Pop ha pubblicato tantissimi fumetti proprio realizzati da Goutanabe basati su tantissimi altri racconti di Lovecraft dalle montagne della follia, l'ombra venuta dal tempo, l'abitatore dell'oscurità insomma ce ne sono veramente di cotte e di crude anche ovviamente il bellissimo ciclo di Cthulhu, personalmente le montagne della follia continuano a essere il mio preferito in assoluto e appunto da qualche settimana è finalmente disponibile anche il nuovo cofanetto contenente i tre volumi che compongono l'orrore di Danwich questo lo potete trovare tranquillamente in fumetteria super già completo in appunto i tre volumi con anche il cofanetto oppure come sempre J-Pop fa uscire anche con una certa cadenza anche i tre numeri che appunto compongono la serie come sempre il prezzo è totalmente invariabile perché i fumetti costano 7,50€ mentre il cofanetto completo sono appunto 22,50€ per chi bazzica da più spesso questo canale sa che non è la prima volta che parlo appunto di queste trasposizioni in quanto già diversi anni fa vi raccontai proprio quello che pensavo delle montagne della follia facendo anche un po' una panoramica generale su tutti quelli che erano le opere già pubblicate appunto da J-Pop di Goutanabe io impazzisco sempre tantissimo in particolare sono molto contento che adesso sia arrivato anche l'orrore di Danwich perché è uno di quei racconti di Lovecraft di cui mi ricordo molto molto poco perlomeno prima ovviamente di leggermi questi fumetti quindi sono stato anche molto contento per poter togliere un pochino di polvere letteralmente dalla mia memoria riguardo a questo racconto tra l'altro proprio in quell'occasione vi dissi che non è la prima volta che ovviamente viene realizzata una trasposizione di questo racconto da un autore giapponese perché già negli anni 60 niente po' di meno che Shigeru Mizuki un nome che appunto si è masticato un po' il fumetto giapponese insomma vi suonerà piuttosto familiare realizzò proprio una propria versione ripeto dell'orrore di Danwich riadattandola un pochino a quello che era il folklore a quello che è il folklore giapponese tra l'altro chi meglio di Shigeru Mizuki l'autore delle bellissime enciclopedie sui mostri e sugli spiriti giapponesi ma di anche tantissimi altri fumetti tantissimi altri manga che raccontano proprio il legame del popolo giapponese con non solo quella che è la sua storia spesso e volentieri anche nelle occasioni un pochino più tragiche ma soprattutto con quello che è il suo retaggio culturale appunto le sue leggende il suo folklore legate a tutta una serie di creature e immagini appunto che arrivano ripeto ovviamente dall'immaginario collettivo del popolo giapponese come spesso accade per i racconti di H.P. Lovecraft queste storie hanno luogo in posti lontani in luoghi in cui il braccio umano se vogliamo anche la ragione sotto un certo punto di vista tende a far fatica ad arrivare non a caso proprio parlando delle montagne della follia queste hanno luogo in un posto sperduto in un posto che non era ancora conosciuto non era ancora stato ben sondato dall'essere umano e che quindi esattamente come le profondità marine piuttosto che il cuore delle giungle creava sempre un po' questo senso di inquietudine nei confronti degli esseri umani e soprattutto inquietudine nei confronti dei personaggi che malauguratamente si ritrovano appunto a trovarsi in questi luoghi proprio l'orrore di Dunwich questo orrore che arriva da questa piccola cittadina nel New England come spesso accade appunto nei racconti di Lovecraft vicino cui abita questa famiglia piuttosto singolare composta da questi tre membri abbiamo il patriarca della famiglia Whitley il vecchio Whitley sua figlia questa misteriosa ragazza albina di nome Lavinia e quello che probabilmente è il membro più strano e più particolare un po' anche il protagonista di tutta questa storia che è il giovane Wilbur proprio lui infatti è un ragazzino che dimostra fisicamente soltanto 4 anni ma in realtà sembra avere degli interessi piuttosto strani per un ragazzino della sua età sembra essere molto molto interessato alla collezione di libri antichi che appunto il nonno tiene nella sua decrepita casa illimitare appunto di Dunwich ma soprattutto per tutta una serie di culti e divinità oltretombali che insomma mettono nettamente in crisi lo studioso che appunto si reca a studiare questo ragazzino gli abitanti del villaggio ovviamente sono piuttosto preoccupati da questa famiglia perché sanno essere praticanti di qualche misterioso rituale che sembra avere le sue radici non solo nella magia nera ma anche in antichi culti indiani degli indiani d'America che vivevano proprio dove adesso si trova il villaggio di Dunwich c'è già questa è una cosa che apprezzo molto cioè vedere come Lovecraft riesca un po' a mescolare quelle che sono credenze popolari tra cui miti e leggende che ancora oggi come dire intimoriscono proprio gli abitanti di Dunwich li creano questo profondo senso di disagio e poi anche con ovviamente il ciclo e la mitologia di Dictulu in quanto l'orrore di Dunwich fa proprio parte del corpus letterario di Lovecraft che a sua volta fa parte di tutto il ciclo legato al Necronomicon alla sua cosmologia folle quindi abbiamo riferimenti ovviamente al ciclo di Dictulu e ad altre creature che ripeto a lui si accompagnano e come spesso accade tra l'altro i protagonisti effettivi di queste storie in questo caso c'è questo studioso ma l'augurato studioso che si ritrova proprio a visitare Dunwich molto spesso ripeto si tratta di persone la cui ragione si fonda sullo studio e sulla conoscenza e che spesso e volentieri si trovano a che fare con delle situazioni che totalmente proprio rifuggono quelle che sono la logica lo studio e la conoscenza ma che invece prendono a piene mani anzi strappano a piene mani la follia dal cuore più profondo dei suoi malaugurati protagonisti e letteralmente la sbattono in faccia gettandoli appunto in un baratro di completa follia teniamo poi conto che appunto le vicende si svolgono in un piccolo villaggio in cui tutti quanti si conoscono fra di loro ci sono diverse scene in cui vediamo gli abitanti ritrovarsi in questo emporio discutendo un po' di quelle che sono gli avvenimenti della giornata o come spesso e volentieri succede di qualche strano caso di qualche strano rumore o di qualche strano avvenimento che avviene spesso e volentieri legato proprio alla famiglia dei Whiteley lo stesso villaggio tra l'altro è permeato un po' da questa situazione molto molto strana nel senso che gli abitanti per loro stessa missione non sono altro che il frutto di unioni consanguine tra i vari abitanti del villaggio una cosa che crea un disagio proprio nei suoi stessi abitanti in quanto abbiamo lo spettro della prima guerra mondiale che aleggia appunto sul mondo intero e vediamo proprio i contadini Dunwich discutere se il villaggio dovrà o non dovrà mandare alcuni dei suoi giovani appunto a combattere in Europa tra l'altro lo stesso governo americano è profondamente interessato a scoprire cosa sta succedendo a Dunwich mandando proprio team di studiosi e di medici spesso e volentieri, indovinate un po' che arrivano dalla Miscatonic University o addirittura da quella di Arkham il vero mistero che aleggia su tutta questa storia è ovviamente quello che insomma lega un po' i vari membri della famiglia dei Whiteley è una famiglia piuttosto particolare non solo perché è formata da membri piuttosto singolari tra di loro ma anche perché tutto fa un po' immaginare che il piccolo Wilbur possa essere frutto anche di una vera e propria violenza infatti non si sa chi sia il compagno di Lavinia il padre del piccolo Wilbur e questa cosa lascia in qualche modo intendere che il giovanotto non sia altro che il figlio di una violenza il figlio anche lui proprio di un incesto oppure di una non tanto immacolata concezione e qua potrebbe ritornare ancora una volta a un riferimento proprio con i culti satanici o con la magia nera tra l'altro lo stesso aspetto di Wilbur con questo sguardo con queste pupille soprattutto allungate esattamente come quelle di una capra ecco o con il viso che talvolta ricorda proprio quello di un caprone piuttosto che quello di un leone invece lascia proprio anche un po' all'immaginazione che questi possa essere letteralmente il figlio del demonio vi sono poi anche diversi altri indizi che potrebbero lasciare intendere che proprio si tratta di magia nera in quanto non solo spesso e volentieri i Whiteley vengono avvistati dagli altri membri del villaggio a compiere proprio dei sacrifici su questa misteriosa collinetta che si trova vicino alla loro casa ma ci sono anche tutta una serie di avvenimenti di strani presagi come a un rombo sinistro che spesso e volentieri si sente durante la notte provenire dalla vallata vicino ad Unwich ma soprattutto anche questi giganteschi stormi di questi strani uccelli che sembrano andare a venire e apparire in continuazione come se fossero portatori forieri di un oscuro presagio da buon nichilista quale è Lovecraft non ci lascia neanche la ben che minima idea di bontà e di positività nel corso della storia anche se in realtà succede alla fine qualcosa ovvero in quella che è la battaglia finale contro l'oscurità mettiamola giù così c'è un piccolo gruppo di abitanti di Dunwich che decide di seguire il protagonista lo studioso protagonista perché si sente in dovere di proteggere gli abitanti del villaggio e il loro stesso villaggio quindi cercando in qualche modo in maniera di vincere la paura e la follia ecco che stanno dilagando graficamente apprezzo anche qui tantissimo Goutanabe in quanto personalmente credo che tutte le volte che si vada a realizzare un adattamento in particolare un adattamento visivo dalle opere di Lovecraft si vada un po' anche a tradire quella che è l'intenzione del suo autore perché se Lovecraft ci descrive con pochissime parole quelle che sono le aberrazioni e i mostri che i nostri protagonisti incontrano lasciandoci letteralmente a noi lettori completamente il compito di dover immaginare la paura che questi personaggi incontrino ecco dare forma all'orrore ripeto vuol dire un pochino tradirlo però Goutanabe riesce quantomeno a costruire una tensione una paura costante nel corso dei suoi fumetti fino ad arrivare poi a quelle che sono le esplosioni letteralmente con appunto queste queste orribili apparizioni apprezzo tantissimo anche la sua regia la volontà di raccontare alcuni dettagli appunto di ciò che viene raccontato nel corso di queste storie apprezzo sempre anche molto il dosaggio dell'oscurità come in scene di questo tipo come questa mano che si poggia sulla testa del piccolo Wilbur come se volesse spingerlo letteralmente verso verso l'oscurità un'altra cosa che apprezzo tantissimo e questo avevo già parlato anche proprio in occasione delle montagne della follia i visi gli sguardi gli occhi dei protagonisti sono sempre angosciati sono proprio carichi di paura di tensione di orrore insomma e anche quando si tratta di dare forma appunto a queste aberrazioni ecco Goutanabe è veramente veramente super calzante vi faccio vedere per esempio questa questa rappresentazione senza darvi troppo contesto che ritengo veramente splendida mi ricorda tantissimo e direi anche grazie un po' al cazzo visto che Lovecraft è stato talmente tanto di ispirazione per la cultura popolare e in particolar modo anche per il cinema da influenzare a registi come John Carpenter e direi che questo tipo di aberrazione potrebbe tranquillamente ricordarci anche una delle mostruosità uscite proprio da uno dei film più celebri di John Carpenter quale è la cosa tra l'altro graficamente Tanabe mi ricorda veramente veramente molto un altro autore questa volta americano che anche lui più e più volte si è ritrovato a dover lavorare sui racconti di Lovecraft ovvero Richard Corbin non me lo ricordo soltanto per gli sguardi allucinati proprio dei personaggi che vengono rappresentati ma anche per il grande senso di tridimensionalità che viene dato appunto alle sue pagine e in particolare ovviamente anche alle aberrazioni che queste rappresentano insomma guardate per esempio questa piccola pagina con un bambino che si ritrova a dover assistere a questa apparizione letteralmente mostruosa non credo di dover star qua a spiegarvi quanto importante sia stato il lavoro di H.P. Lovecraft per la cultura popolare in generale da il modo in cui ha influenzato un certo tipo di estetica visiva per quanto riguarda il cinema per quanto abbia ispirato artisti e musicisti che bazzico un po' nella scena nella scena metal insomma vi assicuro che ci sono interi album dedicati ai racconti di H.P. Lovecraft e io consiglio sempre di accompagnarvi la lettura proprio dei fumetti di Gotanabe se vi piacciono un po' questo genere di sonorità con la band greca dei Septic Flash che su diverse canzoni proprio preso a pienissime mani proprio dai testi dai racconti di H.P. Lovecraft ma arrivando al fumetto credo che siano innumerevoli appunto le citazioni e le influenze appunto dell'autore di Providence appunto sul mondo del fumetto al di là per esempio del mio adorato Hellboy ripeto basta vedere quanto Gotanabe si sia ripeto prodigato per i suoi fumetti io consiglio tra l'altro sempre di approcciarvi un po' prima ai volumi autoconclusivi proprio dei racconti di H.P. Lovecraft partendo per esempio dal volume del Mastino che contiene all'interno il Tempio uno tra i miei racconti preferiti proprio di Gotanabe il colore venuto dallo spazio anche questo è stato importantissimo per la cinematografia ci sono tantissimi film che si sono ispirati a questo racconto tra cui un film che da bambino mi ha terrorizzato che si chiamava La Fattoria Maledetta L'Abitatore del Buio e poi ovviamente Il Richiamo di Cthulhu che tra l'altro J-Pop ha pubblicato anche in un altro bellissimo formato che è questo qui da proprio come se fosse un antico grimorio e lo stesso trattamento è stato riservato alle montagne della follia ecco una volta che vi siete letti questi volumi autoconclusivi io vi consiglio proprio di recuperarvi Le Montagne della Follia che secondo me attualmente è la miglior trasposizione realizzata proprio da Gotanabe basata sui racconti di Lovecraft tra l'altro proprio dedicato a Richard Corbin Panini Comics qualche anno fa pubblicò questo bellissimo librone chiamato L'Antro dell'orrore che altro non è che una raccolta di rappresentazioni proprio realizzate da Richard Corbin di racconti non solo di di H.P. Lovecraft ma anche di Edgar Allan Poe che vi straconsiglio di recuperare qualora voleste anche un po' leggervi altre trasposizioni legate proprio al mondo di H.P. Lovecraft e se ulteriormente voleste anche approfondire proprio con altre di alcune di queste rappresentazioni non posso assolutamente che non citare il lavoro di Alan Moore e Jason Burrows fatto su Providence tra l'altro proprio in questo primo numero c'è anche una bella ripresa proprio dell'orrore di Dunwich ma anche le trasposizioni di Alberto Breccia pubblicato da Oscar Mondadori con questo bel librone dedicato ai miti di Cthulhu anche in questo è contenuto una rappresentazione proprio dell'orrore di Dunwich sebbene con uno stile decisamente diverso si tratta di una storia molto molto più corta rispetto ovviamente a quella realizzata da Gautanave con uno stile particolarmente più mi viene da dire quasi etereo sotto un certo punto di vista che però merita anch'esso visto la bravura dell'autore di cui stiamo parlando tra l'altro vi lascerò in descrizione i link per questi fumetti oltre che per invece il cofanetto di J-pop con tutti i vari numeri dell'orrore di Dunwich qualora voleste recuperarlo fatemi sapere se l'avete già letto fatemi sapere se vi ci state un po' approcciando magari dopo aver visto questo video mi farebbe veramente molto ma molto piacere sempre in descrizione ci sono anche altri link come per esempio ad altri fumetti che vi consiglio di sempre di recuperare sotto il mio consiglio e per il mio gusto e se vi andasse di seguirmi anche sui miei social ci sono qua sotto anche qua i link per poterlo fare se vi andasse di continuare a seguire i miei gergarismi magari anche su Instagram mi farebbe molto ma di molto piacere io vi saluto vi ringrazio e ci vediamo in un prossimo video ciao belli ciao belli ciao